Buonasera amici di 8 Channel, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Offside Benevento 1-1 pari e patta tra Benevento e Cerignola nel big match della 17esima giornata del girone C del campionato di Serie C in vantaggio nella ripresa il Benevento con l'autogol di Visentin, pareggiato dopo 5 minuti dal gol di Jallov meglio ai punti, dobbiamo dirlo onestamente, di Cerignola che nel primo tempo ha avuto due occasioni clamorose entrambe negate, il gol due volte negato da Annunziante, poi il palo di Jallov è un'occasione clamorosa dobbiamo dirlo anche per il Benevento con Manconi, nella ripresa si è giocato praticamente a sprazzi Benevento che però non è riuscito a conservare il vantaggio e dunque pari e patta tra Benevento e Cerignola restano inalterate le distanze tra le due, si affrontava la prima e la seconda Benevento che sale a 34, Cerignola a 30 in attesa dell'altro big match di giornata quando domani a Monopoli si affronteranno Monopoli e Avellino chiaramente ascolteremo la voce dei protagonisti con i collegamenti live dal Vigorito dove per noi c'è la nostra Sonia Lantella in studio con i commenti di Billy Nunzonillo a cui do il bentrovato, ciao Billy Ciao Pasquale, buonasera ai telespettatori Primo flash con te, per come si è messa, per come è terminata e per quanto abbiamo visto nell'arco dei 95 minuti, più un punto guadagnato o due punti persi per la strega? Ma devo dire, alla fine è un risultato giusto per quanto visto in campo sicuramente non una delle migliori prestazioni del Benevento ma non credo solo per merito della squadra giallorossa ma anche e soprattutto per merito del Cerignola che ha confermato che l'attuale classifica non è casuale onestamente è la squadra più forte che ho visto qui all'opera al Vigorito è stata impostata bene la partita da Raffaele perché non ha dato la possibilità al Benevento di sviluppare il solito gioco loro si piazzavano con gli attaccanti sulla tre quarti i centrocambisti subito dietro e questo impediva con questa pressione forte poi se ricordi Pasquale l'avevamo detto la settimana scorsa è una squadra che gioca in maniera diciamo decisa fra virgolette tanto è vero che ha avuto quattro ammoniti e quindi chiaramente non era facile affrontarli per Cato come hai detto tu per questo gol ricordi che la seconda volta che il Benevento doveva essere andato in vantaggio dopo quattro minuti subisce un gol altre volte in quattro minuti subì due gol quindi voglio dire con l'Avellino bisogna stare un po' attenti bisogna migliorare questo aspetto sicuramente Peccato perché davvero il gol del Cerignola che per quanto visto nel primo tempo avrebbe meritato sicuramente il gol sia nato da una disattenzione difensiva noi il rinvio sbagliato di Ucadda il cross al centro sul pallone vagante il primo ad avventarsi è stato Iallo che nel primo tempo aveva colpito un palo peccato perché davvero è durato troppo poco il vantaggio perché tu mi insegni Billy se fossero passati almeno altri 10-15 minuti poi la pressione sarebbe stata tutta sul Cerignola e il Benevento avrebbe potuto giocare di ripartenza ma sicuramente hai detto bene hai sottolineato bene questo aspetto purtroppo il Benevento ripeto ha questi momenti di smarrimento diciamo così non è solo colpa del rinvio di Ucadda che è andato al centro ma di tutta una serie di errori anche di posizionamento anche l'ottimo intervento di Berra che poi nel rilancio insomma si è fatto anticipare poi chiedendo un fallo quindi vuol dire a centro Capellini che è scivolato non stava addosso a Iallo venuto a stare qui diciamo a sottolineare i vari errori che si sono succeduti resta il dato di un pareggio che fortunatamente per la classifica che ha il Benevento mantiene a quattro punti appunto il Cerignola che era la più diretta concorrente e quindi insomma è inutile stare qui oggi a recriminare ormai è andata e bisogna già guardare al prossimo turno dove il Benevento farà visita al Trapani che tra l'altro oggi ha perso assolutamente sì dicevi del Trapani sconfitto ad Altamura per 2-1 e tra l'altro nel giorno dell'Immacolata il prossimo 8 dicembre alle 19.30 il Benevento farà visita proprio al Trapani degli ex Caric e Benedetti Billy c'è un dato però inequivocabile che il Benevento è al secondo pareggio su cinque sconti diretti il secondo in casa dove ha affrontato Avellino e Cerignola fuori casa ha affrontato il Catania il Monopoli e il Picerno conoscendo sempre il segno amaro della sconfitta sì vabbè per quanto riguarda fuori casa ci sta anche perché insomma vuol dire devi mettere nel conto negli sconti diretti che magari fuori casa li puoi perdere ovviamente le due ultime partite con l'Avellino e contro il Trapani per una squadra che aveva sempre vinto in casa rappresenta sicuramente un rallentamento però se guardi la classifica ti rendi conto un po' ci sono delle similitudini con la scorsa stagione se ti ricordi anche la Juve Stabia a gennaio fra dicembre e gennaio ebbe un momento di rallentamento però riuscì a mantenere le distanze e poi dopo anche grazie all'inserimento se ti ricordi bene di Adorante che sblocco alcune partite riprese la corsa ci sta insomma un momento anche di rallentamento anche perché quelle dietro comunque rallentano il Crotone che pareggia a Foggia il Picerno sconfitto il Trapani sconfitto e domani chiaramente ci sarà il big match tra Monopoli Nobili e Avellino a questo punto il Monopoli battendo l'Avellino potrebbe portarsi a meno tre e in caso di pareggio le distanze resterebbero dalla vetta inalterate sì sicuramente anche il Crotone che veniva da otto risultati utili consecutivi mi sembra tre vittorie nelle ultime tre gare e comunque ha impattato a Foggia non è facile per nessuno ogni settimana c'è qualche risultato a sorpresa e tutto questo poi chiaramente anche gli scontri diretti tra le squadre che sono alle spalle del Benevento così come il Benevento ha dovuto affrontare Avellino e Cerignolo doveva affrontare il Trapani insomma in queste partite diciamo che sulla carta erano più difficili chiaramente se rallenta e rallentano anche le altre perché negli scontri diretti qualcuno perde oppure ci può essere un pareggio la classifica resta invariata più o meno assolutamente sì dicevi benissimo andiamo a vedere con l'ausilio delle grafiche i risultati finora maturati in questo turno numero 17 4 le gare giocate Altramura Trapani 2 a 1 Benevento Cerignolo 1 a 1 Foggia Crotone 1 a 1 Latina Picerno 2 a 0 un po' il risultato eclatante di giornata anche quello dell'Altamura però contro il Trapani non è da meno a mio avviso le altre sfide di giornata Catania Cavese che inizierà alle 17.30 di oggi domani le altre sfide tra Casertana e Potenza Juventus Next Gen e Taranto Turris Messina mentre Monopoli Avellino e Sorrento Giugliano si disputeranno le partite lunedì chiedo scusa sì avevo detto della sfida di domani tra Monopoli e Avellino l'Avellino che poi ha giocato in settimana in Coppa Italia contro il Giugliano quindi lunedì sapremo tra le squadre di testa come andrà a finire domani invece c'è un interessante anche Casertana Potenza ma alle 17.30 occhio anche a Catania Cavese questa invece è la classifica parziale abbiamo detto delle 4 lunghezze di vantaggio che il Benevento conserva sul Cerignola Benevento a 34 Cerignola a 30 il Monopoli a 28 che lunedì potrebbe accorciare a meno 3 sul Benevento battendo l'Avellino Crotone 26 Avellino 25 via via tutte le altere e occhio poi all'altamura vedi Billy con i recenti risultati si è anche rilanciato e sarà tra l'altro prossimo avversario del Cerignola in un derby comunque mai banale e mai scontato che cosa ti ha colpito in positivo del Cerignola al di là del fatto che ha comunque fermato il Benevento e ha imbrigliato la strega specie nella zona nevralgica del campo ma guarda il Cerignola io credo che la classifica rispecchi un po' quello che sono i valori in questa prima parte del campionato dimostrato di essere una squadra molto compatta aggressiva forte fisicamente e chiaramente non ti impedisce di giocare purtroppo vedi questo campionato è particolare c'è un livellamento verso il basso e lo dimostrano anche i risultati odierni però ci sono le sorprese come dimostrano i risultati che abbiamo visto poc'anzi per questo io avevo detto che c'è una certa similitudine con la serie B non parlavo di valori tecnici ovviamente ma parlavo del fatto che nessuna partita è scontata l'intoppo è sempre dietro l'angolo e il Cerignola che pure ha avuto dei risultati ha perso col Taranto insomma pure ha avuto dei risultati clamorosi a suo stavore però è lì e se sta lì non è casuale lo abbiamo visto oggi in campo come darti torto coinvolgo per la prima volta stasera e do il ben trovato a Sonia Lantella per la prima volta collegata dal Ciro Vigorito pari e patta Sonia tra Benevento e Cerignola meglio il Cerignola nel primo tempo stavamo dicendo anche per le occasioni avuto Benevento ne ha sprecata una clamorosa con Manconi a tu per tu con Saracco nella ripresa Benevento decisamente più aggressivo peccato però perché pesa in negativo nella gara degli stregoni dei giallorossi di Gaetano Auteri purtroppo il gol preso per un'altra disattenzione difensiva ed è durato troppo poco ancora una volta il vantaggio nell'ultima gara interna con l'Avellino era stato ugualmente quando addirittura il Benevento era accaduto la stessa cosa ne aveva presi addirittura due buonasera e bentrovata Buonasera a voi un saluto ai telespettatori hai detto bene Pasquale nel senso che è un Benevento che non mi è piaciuto forse la prestazione più brutta vista qui all'Avigorito soprattutto nel primo tempo al di là dell'occasione di Manconi non si ante ha fatto tre parate nell'arco della stessa azione importanti sicuramente la squadra sanita ha sofferto l'aggressività di questo Cerignola che merita la classifica che ha proprio perché la messa sul piano della vivacità dell'aggressività della corsa dell'attenzione cosa che è mancata al Benevento soprattutto sul piano difensivo tanti gli errori poi nella ripresa Oteri ha provato a correggere il tiro in parte c'è riuscito trasformando il 4-2 e 3-1 in un 4-3-3 abbassando Simonetti con l'inserimento di Viviani al posto di Prisco poi dentro in avanti anche Starita Lagnini c'è stato nel finale spazio per per l'Ingeri però effettivamente è un punto che a mio avviso sta più stretto al Cerignola che non al Benevento anzi se andiamo a guardare un po' come è l'andamento della partita tutto sommato il Benevento deve ritenersi fortunato di aver portato a casa un punto importante guardare ora la trasferta di Trapani però ecco sul piano del gioco sicuramente tante le difficoltà l'involuzione faccio fatica a trovare il migliore in campo nel senso a parte il portiere non seante perché effettivamente quest'oggi male tutti dall'attacco alla difesa passando per il centrocampo dove sicuramente Prisco e Talia hanno sofferto una mediana più folta da parte del Cerignola ma le difficoltà ci sono state si sono viste c'era stata anche l'azione fortunata grazie all'autorete di Bisentino sul calcio d'angolo di Acampora e quella poteva essere un punto a vantaggio del Benevento ma poi subito dopo l'ennesimo errore ha rovinato i piani per cui dico che il Benevento deve tenersi stretto questo punticino guardarlo con ottimismo rivedere più di qualcosa rispetto a quella che è stata la sfida all'avvigorito e pensare già alla prossima Assolutamente sì ritorneremo a breve da te appena avrai ai nostri microfoni di protagonisti del match noi intanto ce ne andiamo per la prima volta in pubblicità stasera non cambiate canale a tra poco Pari e patta tra Benevento e Cerignola che si dividono la posta uno a uno Billy possiamo dire che anche nel secondo tempo ha fatto un po' tutto il Cerignola l'autorete di Visentino poi c'è stato sicuramente il concorso di colpe in occasione del gol del Cerignola stesso però poi il gol di Jallov però nel primo tempo ti do anche questo dato tre parate impressionanti di Nunziante secondo me la seconda è ancora più difficile dopo la respinta sul tiro di Jallov davvero mi hanno colpito in positivi i tempi di reazione dello stesso Nunziante che ha compiuto tre interventi straordinari poi poco nulla la smanacciata corta ci sta poco reattivi a chiudere su Jallov dopo in quel caso poi Capellini che peraltro hai sottolineato bene è anche scivolato sì devo dirti che è stato straordinario proprio sul secondo intervento la reattività che ha evidenziato ma questo ragazzo l'errore ci sta anche i portieri più esperti abbiamo il ricordo nel passato di errori individuali dei portieri che abbiamo avuto nulla da eccepire nel senso che poteva smanacciarla diversamente però non è inutile stare qui a sottolineare questi aspetti piuttosto devo dire che a inizio di campionato sicuramente un po' tutti avevamo così come dire un po' timore di questo fatto di questa scommessa che si apprestava a fare il Benevento con un portiere ricordiamo di 17 anni devo dirti che è una scommessa ampiamente vinta bisogna evidenziare questo aspetto perché io credo che alla fine i punti qualche punto in più il Benevento se lo ritrova proprio grazie alle parate di Nunziante assolutamente sì Sonia chiaramente parlava del fatto che non ci fossero elementi da salvare oltre a Nunziante magari se dovessi dire qualcuno potrei dire Simonetti specie nella ripresa che si è sacrificato molto a centrocampo però tanti in ombra condizione fisica o altro secondo te deficitario ovviamente qualcuno sicuramente sta attraversando un momento di forma non ottimale ma questo nel corso della stagione ci sta no non è una novità è ovvio che ai punti c'era una squadra che meritava di vincere il Cerignolo diciamocelo con molta onestà però alla fine il pareggio non è che sia come devo dirti sia uno scandalo certo assolutamente meglio ecco in queste situazioni quando sei davanti in classifica anche smuovere la classifica con un solo punto è importante perché l'abbiamo visto il Crotone che era la squadra più in forma che oggi è al nono risultato utile consecutivo prima o poi pagherà questo sforzo come l'ha pagato l'Avellino quando ha realizzato la striscia di sei vittorie consecutive poi anche mentalmente ce lo siamo sempre detti è difficile incorrere e vedere che quelli davanti non perdono colpi no ma i cali ci sono inevitabilmente il Belemento ha qualche elemento per esempio Brisco che ha fatto una prima parte di stagione straordinaria negli ultimi tempi appare un po' appannato lo stesso Lamesta non è che stia offrendo le prestazioni diciamo di livello qualitativo rispetto a quelle precedenti nella ripresa perdonami Lamesta quando ha fatto monire Ligi lì si è visto il vero Lamesta palla c'è palla non c'è è andato via e ha costretto Ligi a stenderlo lo stesso Manconi oggi non mi è piaciuto affatto ripeto ma secondo te Manconi perde quando gioca in quella posizione ma Manconi non è una prima punta il Belemento credo che in queste ultime gare sia soffrendo dalla partita dell'Avellino in poi sia soffrendo moltissimo l'assenza di Perlingieri noi non dobbiamo dimenticare che Perlingieri al di là del valore tecnico del calciatore per le sue caratteristiche il modo di stare in campo è un elemento fondamentale perché Perlingieri aiuta i compagni a sviluppare la manovra sulla tre quarti oltre che realizzare consente loro di salire bravo esatto fa questo gioco come dico è un calciatore associativo come si sa dire oggi in gergo e quindi chiaramente Manconi ha tutt'altre caratteristiche è uno che ci mette tanta grinta rincorre i compagni tatticamente è utilissimo però non ha quelle caratteristiche che ha Perlingieri né ha le caratteristiche del centroavanti di sfondamento quindi ci aveva abituato bene finora con le sue prestazioni di altissimo livello Shadioukada che è apparso un po' in ombra oggi specie nella fase difensiva dove è sempre molto attento e accorto avrebbe potuto gestire meglio il pallone hai detto chiaramente senza voler gettare la croce addosso a nessuno che anche Berra lì avrebbe forse potuto dopo quella grande scivolata ed era stato anche bravo a non commettere fallo di mano avrebbe potuto poi spazzare via il pallone però me lo dici tra poco sai perché ti interrompo perché ci stava ascoltando mister Gaetano Auteri ai microfoni della nostra Sonia Lantella vengo da voi buonasera grazie Pasquale detto bene ci ha raggiunto Gaetano Auteri un punto per il Benevento forse non è stata la migliore prestazione vista qui al Vigorito primo tempo tanti errori poi sei riuscito passando ad un 4-3-3 con Simonetti più basso ad aggiustare un po' il tiro sei d'accordo? ma noi le cose diciamo meno belle le abbiamo fatte nel primo tempo ma non nella fase di non possesso lì abbiamo fatto buone cose contro una squadra che vabbè ha dimostrato lo sapevamo di essere forte pronti via abbiamo sbagliato e abbiamo subito delle transizioni pronti via abbiamo sbagliato delle eseguazioni dei gesti tecnici che per noi non sono consueti non lo so forse un po' di tensione vabbè abbiamo fatto con Agampara con Prisco un po' con tutti quindi abbiamo dato un po' di coraggio però dal punto di vista dell'andare sotto palla come si deve nel primo tempo parlo eravamo comunque consistenti loro hanno avuto due grandi occasioni nel primo tempo una secondo me è fuori gioco nettissimo per un attimo ci siamo anche fermati e la seconda sugli sviluppi di un corno nel nostro lavoro dove non siamo stati risoluti nella respinta perché Ferrara diciamo ha respinto una palla a 5 metri regalando una palla importante a loro e sono ripartiti ma la palla era nostra poi nel secondo tempo siamo cresciuti tanto soprattutto gli ultimi 25 minuti la partita diciamo è diventata più più nelle nostre mani siamo stati bravi a sbloccarla e poi un paio di superficialità dove potremmo essere più risoluti perché due volte nella azione del gol del pareggio loro abbiamo riconquistato la palla e due volte non siamo stati proprio perentori nell'allontanare il pericolo però questo pareggio lo dobbiamo accettare noi stiamo facendo un percorso alcuni erano al rientro oggi quelli che sono entrati ancora una volta sono entrati bene io devo tenere conto di tutti questo pareggio lo dobbiamo accettare non è che noi siamo una squadra che domina questo campionato il Traveni perde il Picerno perde questo è un campionato dove si può vincere e perdere con tutti perché ci sono dieci squadre di livello forte resettiamo tutto intanto non abbiamo perso la partita anzi l'abbiamo finita in crescendo forse con qualche episodio sospetto alla fine in area di rigore andiamo avanti e mancano due partite alla fine del giorno d'andata poi tireremo le somme studio una serie ben trovato mister parlava del benevento dai due volti in meglio a mio avviso lo avevo detto anche prima che lei ci raggiungesse nella ripresa molto più a suo agio la strega nella ripresa nel primo tempo l'ho vista dagli sparti dialogare molto con Acampora e anche con Prisco lo ha detto anche parzialmente che cosa non andava nei loro movimenti soprattutto di Gennaro Acampora no ma non niente di particolare non siamo riusciti a giocare fra le linee cose che abitualmente sappiamo fare perché ci siamo mossi poco perché Manconi si è mosso poco anche se ha fatto comunque un'ottima partita perché Gennaro era rientro e ha fatto un po' fatiche in alcuni momenti a trovare i collegamenti perché riuscivamo poco a entrare con gli esterni le cose migliori le facevamo quando non eravamo in possesso palla impedendo a loro di essere pericolosi a parte quelle due occasioni che sono state come ho detto prima figlie di fatti episodici paradossalmente loro erano pericolosi tutte le volte abbiamo sbagliato tanti gesti tecnici nel primo tempo perdendo palla nella costruzione o nel fraseggio e lì un pochino ci siamo spaventati poi nell'arco della gara fisicamente stavamo molto bene gli ultimi 25 minuti è diventata monotematica potevamo anche trovare lo spunto per ritornare in vantaggio ci sono state delle situazioni anche un po' particolari ma ripeto il pareggio lo dobbiamo accettare perché poi alla fine è figlio di una partita equilibrata loro questo pareggio lo hanno meritato nessuna delle due secondo me poteva vincere un tempo per uno andiamo avanti Buonasera mister dicevo prima che credo che Cerignola sia la squadra migliore vista all'opera al vigorito nel primo tempo loro sono stati molto abili a iniziare il pressing sull'atequarte ad accorciare con i centrocampisti e quindi ad impedire una manovra fluida poi insomma nella ripresa è cambiato un po' il tema tattico quanto manca al Benevento in quelle situazioni un giocatore associativo come Perlincieri che magari poteva essere un'alternativa vista la mancanza di spazi al centro no vabbè ma a parte si può mancare però abbiamo all'interno della rosa dei giocatori quella parte lì loro qualche volta hanno provato a alzare la pressione noi abbiamo perso qualche pallone in un modo così maldestro e un pochino ci siamo impauriti è tutto abbastanza normale però poi la partita si gioca su 90 minuti ripeto dopo siamo cresciuti avevamo avuto la fortuna perché in quel momento il nostro vantaggio obiettivamente non era meritato anche se stavamo crescendo di passare in vantaggio dovevamo essere solo un po' più attenti secondo me l'avremmo condotta in porto anche perché dal punto di vista fisico rispetto a loro gli ultimi 20 minuti avevamo molto di più da spendere e si è anche visto e forse con qualche episodio favorevole non lo so forse c'è stato un tocco di mano Lanini stava andando alla conclusione abbiamo fatto in alcuni momenti gli ultimi 20 minuti delle scelte che potremmo fare anche poco poco più serene poco poco più lucidi però a parte queste valutazioni pareggio noi le dobbiamo accettare perché abbiamo incontrato una squadra forte perché noi siamo forti ma non è che in questo campionato in questo girone soprattutto in questo momento c'è una squadra che è nettamente superiore alle altre risettiamo valuteremo le cose da migliorare dal punto di vista individuale dal punto di vista collettivo e lo faremo assolutamente sì si può vincere si può perdere contro chiunque i risultati anche di oggi lo testimoniano Sonia conclusione come sempre affidata a te col mister in effetti guardando alla sfida di Trapani parlavi anche di inserimenti giusti opportuni dalla panchina un valore aggiunto che non ti complica le scelte anzi le aumenta no vabbè deve essere così io poi mi baso sulla risultante degli allenamenti settimanali e oggi qualcuno non è stato lucidissimo vabbè ripeto lo esettiamo valuteremo il lavoro della settimana perché adesso ci sono due partite che sono come sempre importanti ma in questo momento qui non sono decisive è chiaro che se vince è meglio ma forse non è neanche un girone in questo momento fino a questo momento in cui una squadra possa prendere 8-9 punti di vantaggio fino a questo momento no perché c'è molto equilibrio non c'è una squadra che si eleva decisamente sulle altre ci sono tante squadre forti secondo me strutturalmente tecnicamente tatticamente fisicamente e noi siamo in queste squadre e qui in questo momento li guardiamo tutti dall'alto verso il basso andiamo avanti perché io comunque sono fiducioso indipendentemente dalla partita di oggi dove magari vabbè il nostro pubblico è stato fenomenale perché dall'inizio alla fine ci ha incitato indipendentemente dalla partita di oggi che può lasciare un po' giochi in casa con la seconda in classifica fai l'acquallina in bocca ma andiamo avanti perché tanto il campionato è lungo perfetto grazie ringrazio Bogheta Noteri Pasquale abbiamo pronto Gennaro Acampora perfetto perfetto veniamo subito da voi intanto è iniziata Catania Cavese intanto mi stavi rispondendo a quella domanda di prima che ti avevo fatto sulla questione riguardante il fortino vigorito che comunque continua ad essere tale perché ricordiamo uno del Benevento ancora imbattuto in casa ma sicuramente questo rappresenta un vantaggio e credo che il ruolino di marcia interno del Benevento poi faccia la differenza in termini di classifica che c'è attualmente chiaramente alla fine il Benevento ha pareggiato contro due squadre di livello l'Avellino che credo abbia una rosa tra le migliori in assoluto e contro il Ciregnolo che ripeto ancora una volta mi è parsa la squadra più quadrata più forte fra quelle finora viste all'opera al Ciro Vigorito è difficile trovare chi sale oggi e chi scende nel tuo borsino ma no sponda giallorossa chiaramente senti io non andrei troppo diciamo così a individuare i migliori i peggiori io credo che più o meno ci sia stato un rendimento di tutti quanti su un livello vicino alla cioè attorno alla sufficienza più o meno chi leggermente sotto chi leggermente sopra ma credo che più che per demerito del benamento ci tengo a sottolineare io credo che la partita sia stata condizionata proprio dai meriti di questa squadra del Ciregnola che è una squadra davvero ostica da affrontare ritorniamo nuovamente al Ciro Vigorito in compagnia della nostra Sonia Lantella c'è Gennaro Acampora a voi hai detto bene Pasquale subito dopo c'è pronto non si ante così ostico il Ciregnola diceva Billi sì sicuramente sono partiti fortissimo ciò dovevamo aspettare però non siamo stati tanto pronti perché hanno avuto subito due o tre palle golli importanti quindi sono partiti sicuramente meglio di noi e sicuramente gli faccio i complimenti perché è una bella squadra è un benevento che soffre un po' l'aggressività dell'avversario perché quando è capitato se andiamo ad analizzare un po' il cammino i momenti di difficoltà maggiori del benevento sono avvenuti quando ha affrontato squadre molto aggressive intense sì probabilmente sì però sappiamo che ci dobbiamo lavorare su questo perché questo gironi ha tante squadre molto aggressive la mettono tante sul piano fisico quindi poi con campi piccoli che troveremo non sempre con un campo così bello quindi sicuramente ci dobbiamo allenare in questo e col mister trovare le giuste soluzioni studio buonasera e ben trovato Gennaro nel primo tempo hai faticato a trovare spazi importanti tra le linee l'ha detto anche Auteri dialogo a distanza molto fitto con lui nella ripresa decisamente meglio se dovessi darti una percentuale a livello fisico e della chiaramente del tuo rendimento a che come ti senti e soprattutto a che livello sei ma sicuramente sì come dicevi tu il mister il primo tempo ho faticato tanto a trovare spazio perché un po' perché erano aggressivi e quindi spezzavano la linea con i terzi quindi ho fatto fatica veramente a trovare spazio lì tra le linee poi il secondo tempo un po' per l'inizio della partita è cambiata mentre per me vengo da un periodo che comunque ho avuto due o tre problemi fisici che mi hanno penalizzato un po' e quindi sicuramente sono un po' indietro di condizione però niente settimana dopo settimana ci lavoriamo per arrivare al top ciao Jenny chiaramente per un giocatore con le tue caratteristiche il processo di adattamento alla Serie C non è semplice perché chiaramente ti ritrovi con giocatori molto aggressivi che giocano molto sulla corsa secondo te quanto manca ancora per avere la campora che tutti immaginiamo possa dare un contributo importante a questa squadra ciao Billy buonasera in un tempo non te lo saprei dire sicuramente è un campionato diverso e devo far veloce ad abituarmi ma comunque sia la squadra spinge anche in allenamento quindi mi aiuteranno sicuramente in questo in ogni fase degli allenamenti e durante l'anno Sonia ultima per te con Jenny un punto tutto sommato buono al di là della classifica proprio mentalmente per come è arrivato lo diceva anche Gaetano Oteri quindi si guarda con ottimismo chiaramente alla sfida di Trapani sì sì sicuramente è un punto buono che ci che continuiamo a fare punti quindi è sempre una cosa positiva oggi era importante secondo me non perdere quindi in questo sicuramente abbiamo centrato l'obiettivo ovviamente abbiamo la partita in pugno si può dire poi c'è stata una piccola disattenzione che abbiamo preso gol però tutto sommato va bene così e continuiamo il nostro cammino perfetto ringraziamo Gennaro Acampora grazie grazie a voi a te Pasquale grazie grazie a Gennaro Acampora a breve come diceva Sonia Lantella avremo Alessandro Nunziante sta salendo però di condizione fisica nella ripresa un paio di aperture importanti forse manca e gli manca ancora quel tocco finale o quel tiro dalla distanza lui che prima di subire l'altro infortunio aveva trovato anche il gol in una partita casalinga con il suo tiro dalla distanza che può essere un'arma importante per la strega assolutamente ma tieni conto che Acampora ha iniziato ad allenarsi con ritardo rispetto ai compagni poi ha avuto questi problemi fisici che lo hanno attanagliato è ovvio che per un calciatore come lui che già strutturalmente non è che sia un fulmine di guerra contro avversari che hanno diciamo dell'aggressività una delle principali qualità ha bisogno di tempo per carburare e per mettere a disposizione della squadra le sue qualità tecniche che tutti conosciamo tu dicevi giustamente il tiro che è un aspetto che può servire a scardinare le fortezze avversarie quando si chiudono nella propria area di rigore però io metterei in evidenza anche il lancio perché Gennaro è bravo anche nel lancio lungo vede bene gli spazi che si aprono in avanti per gli attaccanti per verticalizzare quindi credo che la crescita di Acampora può dare quel quid in più a questa squadra anche oggi è entrato bene Viviani un paio di apertura importante quel lancio di Lanini me lo dici tra poco però perché ritorno al Vigorito dove compagnia di Sonia Lantella c'è Alessandro Annunziante a voi eh sì vero Alessandro poi saremo curiosi di sentire cosa diranno dell'inserimento di Viviani però ora ci concentriamo su di te parate importanti però parto dal gol subito secondo te potevi fare qualcosina di più? allora sicuramente c'è stata una piccola disattenzione da parte di Shadi che magari lui voleva cercare di guadagnare una rimessa dal fondo siamo stati anche un po' sfortunati l'ha colpito e la palla è rimasta lì io stavo seguendo la palla ero sul palo perché lui poteva calciare perché se non sbaglio ha messo la palla in mezzo col sinistro e io non avevo la forza di smanacciarla indietro perché non sapevo chi c'era perché ero proiettato davanti l'ho smanacciata davanti a me per così da averla in traiettoria per un potenziale secondo intervento e la palla è andata a finire proprio sull'attaccante non c'era nessuno in mezzo dei nostri che poteva intervenire e lì è andata a botta sicura ed è andata come è andata però tre parati importanti nel giro di una sola azione incredibile applausi anche per te da tutto il vigorito sì sicuramente è molto emozionante che dopo tre interventi tutto lo stadio ti eloggia però bisogna restare focalizzati in partita perché era il quindicesimo minuto se non sbaglio e c'erano ancora altri 80 minuti da giocare quindi non devi farci non devi farci peso non devi sentirti al settimo cielo devi continuare a giocare e dare il massimo studio buonasera ben trovato Alessandro complimenti oramai ti esprimi e oltre a giocare come un veterano ti esprimi anche con una sicurezza importante con te che sei portiere nonostante la giovane età e nonostante non abbia ancora 18 anni volevo sottolineare un aspetto importante per voi portieri credo che anche con il preparatore ci lavorate i tempi di reazione al di là che potesse essere o meno fuori gioco dopo la respinta sul tiro di Yalov la seconda respinta no e anche quello l'aspetto importante per un portiere è fondamentale perché ti sei alzato subito e hai murato il centrocampista del Cerignola che praticamente si è messo anche le mani nei capelli era convinto di fare gol quanto lavorate in allenamento col preparatore non solo su questi aspetti fondamentali per un portiere noi ci lavoriamo tanto su tutti i punti tutti gli aspetti che un portiere deve migliorare e deve avere lì magari non c'è tanto da allenare ma è puro istinto perché ti rialzi e vai a murare l'attaccante quindi puoi allenare tantissimo però è a momenti durante una partita se capita sei rapido sei veloce a rialzarti sicuramente dipende dall'allenamento però è sicuramente un pizzico un po' di fortuna è sicuramente velocità e agilità la fortuna aiuta gli adaci no Billy bisogna essere anche bravi ad andarsela a ricercare per te Billy Nunzolillo ciao Ale più grande domanda io ti faccio i complimenti perché ti ho visto all'opera come presentatore a otto gol te la sei cavata egregiamente con Sonia e ti vedo spigliato anche davanti alle telecamere rispetto alle tue prime apparizioni credo che questo sia un segnale evidente anche della crescita della tua crescita sul piano della sicurezza che poi lo si vede anche in campo sì sicuramente sto facendo le mie esperienze fuori dal campo e in campo quindi mano a mano sto sto migliorando su tutti i punti di vista anche fuori dal campo occhio Sonia perché davvero prima dell'ultima domanda Alessandro come diceva Billy può essere anche un tuo alter ego scherzi a parte complimenti davvero ad Alessandro Nunzolente e a te Sonia per l'ultima domanda guarda sono un po' influenzata secondo me lo chiamo per lunedì magari sarà lui a condurre siamo a casa però poi io non ti potrò dare il cambio a Trapani anche solo per l'altezza quindi no scherzi a parte è stato forse il benevento meno bello visto al vigorito meriti del Cerignola o forse c'è stato anche un po' un calo magari anche fisiologico dopo un cammino così lungo sì sicuramente sapevamo che il Cerignola era una buona squadra perché l'abbiamo studiata durante la settimana e si è visto o se no non erano non erano secondi ci siamo venuti a prendere alti e ci impedivano di giocare il nostro punto di forza al vigorito è giocare perché il campo perfetto ce lo permette loro sono stati bravi a chiuderci tutti quanti gli appoggi siamo stati meno bravi delle altre volte a cercare gli spazi imbucati e fraseggi veloci disamina perfetta io ti ringrazio ti faccio ancora i complimenti e un grosso in bocca al lupo grazie ad Alessandro Nonziante bene a te Pasquale grazie grazie Alessandro Nonziante dicevi no dicevo di Viscardi perché ha 17 anni ovviamente non ha la patente e quindi lui chiamava bisogna chiedere ad Angelo sì perché Viscardi lo accompagna bisogna chiedere ad Angelo bello anche questo rapporto che c'è tra i ragazzi come emersi in occasione della puntata di 8 gol quando insomma lui accompagnò Viscardi in trasmissione e poi Sonia lo coinvolse davvero bello come quadretto assolutamente a proposito di 8 gol ritorniamo all'appuntamento preciso e puntuale lunedì con la nostra Sonia Lantella a breve andremo anche a salutarla e a congedarla Billy merito ok dei giovani però anche merito a mio avviso dei cosiddetti senatori o anziani che dir si voglia se c'è un gruppo sano unito come come traspare anche dagli atteggiamenti in campo e fuori dal campo non è un gruppo sano coeso e pulito ma io credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che hanno determinato questo cammino del Benevento lo si evince da vari atteggiamenti anche sul campo dei calciatori anche quando un compagno sbaglia lo vedi che non c'è a credine magari c'è anche quel momento così che tu dici mamma mia potevi darmela là però poi tutto rientra magari se ci si incrocia si ci dà il colpo di mano questo è bello io credo che questa sia la cosa da salvaguardare anche proiettandoci al mercato di gennaio bisogna tener conto che questo gruppo va salvaguardato e quindi anche negli scelti che si andranno a fare bisognerà tenere presente questo aspetto a proposito di quello che dicevi nel primo tempo dopo 20 minuti dialogo fitto a distanza tra Ucadda e la Mesta ma sempre nella tranquillità massima infatti poi due si sono dati il 5 lo avrà visto anche Sonia Lantella che vado a ringraziare a salutare e a congedare chiaramente con te il contributo finale un pareggio che per quanto visto in campo accontenta il Benevento magari meno il Cerignola che ai punti avrebbe meritato qualcosa di più però contava non perderla in uno scontro diretto nel fortino vigorito Sonia per mantenere inalterate le distanze e i punti di vantaggio proprio dal Cerignola in attesa del big match di lunedì tra Monopoli e Avellino in cui i risultati li aggiornerete nel corso di 8 gol perché ritorna come sempre preciso e puntuale l'appuntamento con la trasmissione della lunedì sera condotta da te vengo da te guarda io sono d'accordo con Oteri nel senso che nella ripresa ma l'avevo già detto c'è stata una crescita del Benevento però se andiamo a contare le azioni le parate sicuramente il Cerignola ha qualcosa in più da recriminare sì è vero che c'è stata l'azione importante di Manconi però nel primo tempo insomma gli ospiti ci hanno provato più volte quindi direi che sicuramente era fondamentale non perderla quando è arrivato l'autorite di Visentin sicuramente c'è stata un attimo la sensazione di dire ma forse anche per quei casi sfortunati del Cerignola è destino vincere questa partita poi però quando è arrivato subito il pareggio la sensazione è stata quella sicuramente di non perderla l'obiettivo principale era non perdere contro una squadra che aveva delle caratteristiche che mettono in difficoltà la squadra Sannita il Benevento l'abbiamo detto tante volte lo abbiamo analizzato già la prima di campionato o meglio in casa del Catania dove nel primo tempo c'era una squadra che pressava alto aggrediva e la squadra Sannita si affidava a questi lanci lunghi andando parecchio in difficoltà se vogliamo quest'oggi abbiamo visto nel primo tempo un po' una fotocopia è un Benevento che ama giocare palla a terra ama le trame e quindi va in difficoltà quando c'è un pressing molto alto generalmente questo avviene in trasferta per cui il cammino degli giallorossi lontano dalle muramiche è più difficoltoso di quello in casa perché tante volte abbiamo visto un pressing maggiore proprio fuori dal vigorito questa volta invece il Cerignone è stato bravo ad esaltare queste caratteristiche avevano anche loro studiato chiaramente la squadra di Euteric come lo ha fatto il Benevento e quindi hanno accelerato mettendo in difficoltà quindi io direi che comunque era fondamentale non perderla è chiaro che facendo i calcoli noi addetti ai lavori li facciamo magari loro no è chiaro che era fondamentale magari vincere questo oggi per provare a puntare ad un pari a Trapani però magari se andiamo ad analizzare le caratteristiche delle due squadre forse il Benevento riuscirà ad imporsi maggiormente a Trapani sicuramente dovrà farlo con un atteggiamento diverso da quello visto nel primo tempo questo è fuori discussione bisognerà lavorare in questi giorni perché effettivamente c'è grande equilibrio ci sono squadre intense ci sono squadre fisiche aggressive ed è evidente insomma che non bisogna mai abbassare la guardia sarà un altro scontro importante e quindi è bene insomma sicuramente rivedere qualcosina perché lo dicevate in studio io sono d'accordo sono venuti meno giocatori che finora invece erano stati sempre una garanzia e penso proprio ad Ocadda che finora insomma mai giocato sotto la sufficienza credo che questo oggi insomma non meriti il 6 per quello che abbiamo visto in campo magari una flessione ci sta però bisogna ripartire subito col piede giusto a Trapani noi parleremo di questa sfida ancora ma ci affacceremo anche alla prossima lunedì 20 e 30 ad 8 gol tanti ospiti sono felice perché si troverà si troverà in studio Nando Orsi e insomma è stato un po' protagonista annunziante quindi vorrei analizzare con lui cosa è accaduto in occasione del gol di Jallov ma soprattutto anche analizzare delle parate sicuramente importanti ma poi chiaramente parleremo di tutta la disamina della partita con i nostri ospiti per cui appuntamento lunedì 20 e 30 con 8 gol io sono raffreddata spero di riprendermi il più possibile vi auguro un buon proseguimento di trasmissione ed è tutto dal Ciro Vigorito grazie grazie a Sonia Lantella grazie al contributo alla parte tecnica Fabrizio Anglisani Billy prima di andarci in pubblicità nel caso è pronto Alessandro annunziante a condurre che sicuramente ormai questo dimistichezza con il microfono se la caverà egregiamente assolutamente sì ce ne andiamo per l'ultima volta in pubblicità restate lì non cambiate canale perché al rientro ci affacceremo alla sfida dell'immacolata di domenica prossima tra Trapani e Benevento a tra poco ultima parte di offside Benevento il Benevento pareggia 1-1 contro il Cerignola e mantiene quattro punti di vantaggio proprio sulla squadra pugliese un'altra pugliese lunedì affronterà l'Avellino in casa vincendo il Monopoli parliamo del Monopoli potrebbe accorciare a meno tre Billy ti faccio vedere il prossimo turno gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C girone C peraltro Billy penultima del girone d'andata quindi siamo quasi al giro di Bo dopo questa gara Benevento abbiamo detto affronterà il Trapani l'8 dicembre il giorno dell'immacolata alle 19.30 arriverà sabato poi 14 il Giuliano che chiuderà il girone d'andata poi Benevento che chiuderà l'anno solare in trasferta contro la Cavese nella prima di ritorno queste le sfide in programma la prossima settimana Cerignola Altamura Potenza Latina Messina Foggia Cavese Juventus Next Gen Crotone Casertana Picerno Turlis Avellino Sorrento Taranto Catania Trapani Benevento Giuliano Monopoli Billy al di là di Trapani Benevento ma sulla carta insomma lo scontro tra Cerignola e Altamura è sempre un derby quindi non sarà una partita semplice per il Cerignola tra l'altro si giocherà di venerdì che aprirà il turno gara che aprirà il turno e poi anche Avellino Sorrento l'anno scorso il Sorrento fece lo scherzetto al partire Lombardi è sempre un derby insomma una partita da affrontare al massimo da parte degli Irpini però sai abbiamo visto anche oggi e nel corso di quasi tutto questo giro di andata partite scontate non ce ne sono assolutamente sì che partita ti aspetti tra Trapani e Benevento nel giorno dell'Immacolata? ma il Trapani è una squadra che gioca l'ho vista all'opera tre o quattro volte io all'inizio di stagione non ero tra quelli che la consideravano tra le favorite perché sai una squadra che è neopromossa che cambia tanto ha bisogno di tempo per trovare la giusta quadra poi credo che l'ho già detto il presidente Antonini secondo me a volte finisce per mettere troppa pressione sulla squadra con queste sue dichiarazioni di eccessivo ottimismo però chiaramente è una trasferta difficile ha dei calciatori diciamo che sono in grado di decidere la partita da soli per cui bisogna l'escano su tutti poi anche degli ex la sfida degli ex vale a dire Benedetti e Caric allora l'escano è la punta di diamante di questa squadra basta vedere insomma le reti realizzate ma non è solo l'escano tra l'altro devo dire che Benedetti l'ho visto all'opera a Benevento era una lontana copia di quello che avevamo ammirato col Cittadella invece l'ho visto in più occasioni col Trapani è tornato ad essere quel calciatore che spinge quindi a volte sai ci sono dei giocatori che in certi ambienti magari non riescono per una serie di ragioni non riescono a dare il meglio quindi giusto per dire oggi ha segnato Fall che è comunque un elemento importante il gol che non è servito ad evitare la sconfitta contro il Latina c'è chiaramente anche Celiento sulle cui tracce era stato sembra il Benevento ad un passo dal chiudere la trattativa in estate quindi è una squadra ben attrezzata quella di Aronica anche ben allenata ma loro hanno anche un ulteriore stimolo in questo momento perché Antonini ha detto che a gennaio farà la rivoluzione? non la rivoluzione ma cercherà di puntellare ulteriormente la squadra quindi parecchi calciatori che sono in bilico potrebbero essere in lista di sbarco appunto temendo di stare in lista di sbarco probabilmente moltiplicano l'impegno in questo periodo ultima domanda prima di chiudere te l'avevo fatta prima di andare a Campora è entrato bene secondo me anzi sono entrati bene uso il plurale oggi sia Viviani che si sta confermando comunque ad alti livelli che Lanini un paio di spunti interessanti per lui l'anticipo di Saracco sul bel lancio di Viviani poi quella rigore possibile sul tocco di mano di Vicentini sembrava braccio attaccato al colpo ma comunque l'arbitro era molto vicino e ha preferito far giocare lo aveva fatto già nel primo tempo in situazioni analoghe sia su Iallo che su Manconi nelle opposte aree di rigore però sono entrati entrambi bene a mio avviso sei d'accordo? ma io credo che Viviani stia recuperando una forma diciamo così accettabile da un punto di vista atletico e sta disputando degli ottimi spezzoni inizio stagione quando è entrato non aveva certamente convinto invece adesso lo vedo bene ed è un bene per il Benevento poter avere un calciatore perché ricordiamolo lui ha 21-22 anni se non ricordo male insomma è ancora giovane e che ha degli ampi margini di crescita ma soprattutto in questo momento in cui probabilmente Prisco ha bisogno di rifiatare Viviani può essere un ottimo sostituto e consentire a Prisco di recuperare anche sul piano fisico anche in avanti insomma è importante avere gente come Starita Lanini che possono dare un contributo importante Lanini secondo me ha bisogno di ritrovare una condizione fisica ottimale perché dall'anno scorso iniziò benissimo ti ricordi quando arrivò a gennaio poi ebbe quel problema fisico che lo ha un po' condizionato se ritrova una forma accettabile un calciatore che con la sua velocità può fare la differenza e stasera abbiamo sviscerato tanti temi post Benevento Ceregnola Benevento che sarà chiamato alla sfida di Trapani del prossimo 8 dicembre grazie anche come sempre Abiliano Zolillo grazie a te un saluto di telespettatori saluto al quale mi accodo anche io ricordo il prossimo appuntamento della strega sabato 8 dicembre alle 19.30 quando la strega sarà di scena al comunale di Trapani grazie alla regia di Paolo Romano continuate a seguirci sui nostri canali social e sui nostri siti 8channel.tv e 8pagine.it per stasera è veramente tutto appuntamento alla prossima a presto e buona serata a presto